La Spagna è il quarto paese più grande d'Europa, ma ha una densità abbastanza bassa, infatti ha solo 40 milioni di abitanti circa, confino con il Portogallo, l'oceano Atlantico, il mar Mediterraneo e la Francia. Possiamo aggiungere anche il piccolo stato dell'Andorra e la Spagna è separata dal Marocco, quindi dall'Africa, dal piccolo stretto di Gibraltar. Tra l'altro Gibraltar appartiene alla Gran Bretagna, non alla Spagna, mentre queste due città che si trovano in territorio marocchino, Ceuta e Melichia, invece sono città spagnole. La capitale è Madrid, con circa 3 milioni e mezzo di abitanti, mentre le altre città più importanti sono Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Malaga e poi tutte le altre. La Spagna è una monarchia costituzionale, quindi c'è il re. La lingua ufficiale è lo spagnolo, più precisamente il castigliano, da non confondere con lo spagnolo del Sud America. Ma sono riconosciute ufficialmente anche il catalano e la lingua basca. In Spagna infatti abbiamo diverse regioni, tra cui l'Andalusia, Extremadura, Castiglia e León, ma ci sono anche regioni che hanno una storia, una cultura e una lingua diversa da quella spagnola, soprattutto i paesi baschi e la Catalunia. Queste due regioni infatti da tempo chiedono l'indipendenza e addirittura negli anni 90 era diffuso il gruppo terroristico dell'ETA, che faceva anche attentati terroristici, quindi il separatismo basco e catalano è uno dei maggiori problemi per quanto riguarda l'unità della Spagna. La religione ufficiale invece è il cattolicesimo. Vediamo il territorio. Tra i monti abbiamo la catena montuosa dei Pirenei, che divide la Spagna dalla Francia, la cordigliera cantabrica, a sud invece la Sierra Nevada. I fiumi più importanti invece sono il Guadalquivir, che attraversa Siviglia, il Tago e l'Ebro. E dobbiamo poi ricordare la Meseta, che è un altopiano centrale molto molto antico. La Spagna ha diverse isole, soprattutto le Baleari e le Canarie. Le Baleari si trovano nel Mediterraneo. L'isola più grande è Majorca, poi Minorca, Ibiza e Formentera, famose per il turismo. Le Canarie invece si trovano nell'Oceano Atlantico e qui possiamo ricordare l'isola di Tenerife. Il clima è mediterraneo sulle coste che affacciano sul Mar Mediterraneo, continentale nelle regioni centrali. Infatti città come Siviglia e Madrid hanno temperature molto elevate in estate ma molto fredde in inverno. E poi abbiamo il clima oceanico soprattutto al nord-ovest, cioè le regioni della Galizia e dei Paesi Baschi che affacciano sull'Oceano Atlantico. La Spagna ha una lunga storia. Già nel II secolo a.C. fu conquistata dai Romani e ne divenne una delle prime province. Infatti a Segovia, una cittadina vicino a Madrid, potete trovare ancora oggi uno degli acquedotti romani meglio conservati. Dopo la caduta dell'impero romano fu invasa da popolazioni barbariche, tra cui i vandali, ma soprattutto dai Visigoti che vi fondarono un lungo regno durato fino all'VIII secolo, quando arriveranno gli Arabi, i quali conquistarono gran parte della penisola, questo territorio in verde. Resistevano al nord due importanti regni, il regno di Castiglia e il regno di Aragona. E saranno proprio questi due regni a partire dall'anno 1000 a riconquistare poco a poco il territorio spagnolo, cacciando via gli Arabi definitivamente nel 1492. Nello stesso anno parte la spedizione di Cristoforo Colombo, che scoprirà un nuovo continente, l'America. E nel corso del Cinquecento, con i famosi conquistadores Cortés Pizzarro, la Spagna riuscì a conquistare vasti territori in America meridionale e centrale, diventando la prima potenza mondiale, ma dal Seicento inizia un periodo di decadenza e nell'Ottocento culminerà con la perdita delle colonie che diventeranno stati indipendenti. Nel 36 scoppia una violenta guerra civile che vedrà vittorioso il generale Franco, il quale instaurerà una dittatura fino al 1975. Per quanto riguarda l'economia, la Spagna ha un pil pro capite simile a quello italiano, ha avuto un forte sviluppo all'inizio degli anni 2000, ma a partire dal 2012 anche la Spagna ha subito le conseguenze della crisi economica mondiale. Nel settore primario è molto sviluppato la coltivazione di viti, ulivi, pesche e l'allevamento di suini, dai quali si ricavano due prodotti tipici spagnoli, il chorizo e il jamon serrano. Nel settore secondario abbiamo sempre le solite cose, l'industria siderurgica, farmaceutica, metalmeccanica, ma anche automobilistica. Infatti la SEAT è spagnola. Nel settore terziario abbiamo alcune banche famose come la Santander, ma è molto molto sviluppato il turismo. La Spagna infatti è ricchissima di cultura, di storia, di luoghi di interesse e addirittura anche di feste come vedremo un po' bizzarre. Iniziando dalla capitale, Madrid, possiamo vedere la Plaza Mayor, il Palazzo Reale, Puerta del Sol, lo Stadio Santiago Bernabeu, ma anche il Parco del Retiro e due famosi musei, il Prado e il Reina Sofia, dove potete andare a visitare il famoso quadro della Guernica di Picasso. A Barcellona invece troviamo uno dei simboli di tutta la Spagna, la Sagrada Famiglia, progettata dal famoso architetto Gaudí. Abbiamo poi la Ramblas, che è una via centrale che attraversa il centro di Barcellona, che pullula sempre di turisti e termina qui con il monumento dedicato a Cristoforo Colombo e qui proprio inizia la Barceloneta, che è una lunghissima grande spiaggia di Barcellona. Abbiamo poi il famoso Parc Ghella, ancora progettato da Gaudí, insieme alla Pedrera, Casa Batlò, eccetera, e per i maschietti il famoso stadio del Barcellona. Valencia è la terza città della Spagna ed è famosissima in tutto il mondo per la città delle arti e delle scienze. Siviglia è invece famosa per Piazza di Spagna, con queste bellissime architetture. A Granada invece si trova il famoso castello arabo della Lambra. E infine vi segnalo la cattedrale di Santiago de Compostela, che è la meta finale del famosissimo Cammino di Santiago, ovvero un lungo percorso attraverso tutto il nord della Spagna, che si può fare a piedi o con altri mezzi. Piatti tipici spagnoli poi sono la paella su tutti, ma anche la tortiglia, il gaspacio, che è una zuppa di pomodoro, e le tapas, piccoli piattini con assaggi di vari gusti. Tradizionale spagnolo è anche il famoso ballo del flamenco e tra le tradizioni più famose c'è sicuramente la corrida, che si svolgono in delle arene simili un po' ai Colossei dell'antica Roma. Sono spettacoli barra combattimenti tra il torero e il toro, ma non sempre vince il torero. E sempre a tal proposito c'è la famosa Corsa dei Torri a Pamplona, che attrae sempre moltissimi turisti da ogni parte del mondo e bisogna correre praticamente tra le vie della città rincorsi da questi tori. Ovviamente è sconsigliatissimo parteciparvi, perché oltre ai feriti a volte capita anche il morto. A Barcellona invece sono famosi questi Castelles, cioè queste torri umane che possono raggiungere anche decine di metri. Invece a Bugnolo, una piccola cittadina vicino Valencia, c'è la famosa festa della Tomatina, una specie di guerra in cui si lanciano pomodori. E infine tra personaggi famosi e spagnoli possiamo ricordare alcuni attori come Antonio Banderas, Penelope Cruz, artisti come Dalì, Picasso, ma anche Gaudì, Miró, registi famosi come Pedro Almodovar, Amenabar, oppure nello sport con Fernando Alonso, Marquez, Nadal, o scrittori come Zafon e il poeta García Lorca, e infine anche i personaggi della Casa di Carta.